ma è andata c'è occhio che cavera al pompa attività nemica neutralizzate la minaccia il contenitore un solo difensore rimasto bravo maurio no dai ce l'ha freddo ce n'è uno fioz è morto c'è qualcuno che mi copra mentre io guardo dalla botta preso ok gli spawn kill niente finestra sopra a porta preso 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 tranquilli preso ma dai sono stronzo eh vabbè gli ho fatto edge che cazzo vuoi che ti dico vai banana oh caveira aia ah merda stronza di merda vabbè almeno non ho battuto l'uscitore eccolo sarà andato giù è la nuovo caricatore madonna cazzo nooo non ci credo balcaev lo uccide attività nemica neutralizzate la minaccia bandit ok bandit è morto vabbancuro dov'è teo bandit ha metà vita sulle scale a chiocciola bandit è morto tieni l'altra porta questa la tengo io chiuso è morto arriva un altro da me il nemico ha trovato il contenitore va bene ho visto uno ma non ho visto uccidere ok seba che ti faccio edge eee togliti spostati spostati seba ci fa no non hai capito ah ma sei lì ti devi togliere dalla porta bc eh vabbè ma io che ne so eeeh noi raccoglione uno tanto non passano da granja ecco preso non credo termite era qua da me ciao hash l'ultimo nemico rimasto è acceso minca bravo ce n'è ancora uno mi sa eccolo ferimento ferimento non so come il cazzo ultimo attaccante rimasto in vita è sopra il tetto fatti vedere biaccio il tempo scade tra dieci secondi ah eccola ok che ce n'è uno dal bagno non c'è più preso preso tipo quello cazzo fanno la pissola dove? è incastrato porca puttana è da sopra lanciato la smoke stavo rientrando uno no è nella particina davanti alla tua due alleati ho rimasto ultimo attacco è rimasto ultimo attacco è rimasto puttana no non ci credo cazzo mi sa che era morto black si avrà due di vita si avrà due di vita ti guarda telecamera shhh non ce ne so io ho due di vita lui sarà bello rannecchiato qua vero? guarda telecamera non si vede niente cazzo si sta strisciando è dietro i barili è dietro i barili vittoria alla difesa temici eliminati bravo ti beca si stronti occhio che si fanno le altre finestre preso ricarica c'era un altro dietro al letto preso mi ha sparato in fronte e proteggete il contenitore teo occhio vaffanculo vaffanculo Valkyrie morta vado io ma lontana stronzo eh capirlo non è un problema luce aspetta è un po colpiti ma neanche tanto che cazzo fa si si ma venite pure eh ce n'è per tutti preferisce lui quello mancano 10 secondi push 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 nooo mi sono flashato 5 secondi eeeh nooo nooo volevo ucciderlo prima perchè non hai regato il colpo in testa nooo ho preso lo scudo ho preso il cazzo di scudo nooo basta oddio oh non passare da me non passare da me c'era quello che c'è dentro è un obiettivo 48 45 secondi ma io li sento sopra oddio e infatti c'era Jäger che si è calato giù dal buco che hai fatto tu che cosa vuoi dare questa è solo un operatore d'attacco c'è anche il boost c'è il boost cazzo 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 cazzo